paladini vidi mia madre bruciare i libri di papà sapevo quanto ci tenesse ho ancora in mente la smorfia di dolore che cercava di nascondere mentre prendevano fuoco mi fece credere che fosse un gioco e anche se ero solo una ragazzina dentro di me non lo accettai tutti fingevano di non vedere un'esperienza così in giovane età ti marchi a fuoco ti fa conoscere la violenza non accettai molte cose di quella dittatura ma dovevo continuare a sperare nella libertà amnesty international era una sorta di paladino della giustizia per me vedevo gli attivisti come eroi che potevano sconfiggere da fuori il male che noi da dentro non potevamo debellare grazie a loro avevo la speranza che un giorno quell'incubo potesse finire finalmente l'orrore crollò e dopo un po' passeggiando nell'italia dei miei avi vidi dei volontari di amnesty che raccoglievano firme dal mio cuore sentì di unirmi a loro mi sembrò di vedere da vicino gli eroici paladini che avevano vegliato su di me e il mio paese e mi innamorai dell'idea di poter essere per qualcuno quello che loro furono per me